Benvenuti a tutti, sono Arca di Nammer e siamo qua martedì mattina per le Arca News, cosa sono delle news dove ci sono gli incassi della settimana e importantissimi più altre due notizie. Una notizia che ha piegato in due il mondo perché tutta la gente ne parla, ma chi è che ha un canale sul Signore degli Anelli, a chi viene in mente di avere un canale, dedicarci, vabbè secondo me. E poi un trailer, abbiamo non Cinefranc, CF, perché se Jackson è PJ, io lo chiamo CF, ciao CF. Vabbè io adesso tengo scritto Frank, che viaggio tra Cinefranc e Frank, comunque tutto a posto, grazie come sempre per l'invito a partecipare a uno dei miei format preferiti del tuo canale. Sì, ovviamente è uscito il trailer e domani è annunciato il trailer della seconda stagione Rings of Power, quindi inizia di nuovo la guerra, quindi grande settimana questa, quindi niente, siamo in trepidazione di vedere questo trailer, avevo tanta trepidazione. Cioè se non ci dici tu le cose sui nuovi progetti di Lord of the Rings, chi c'è Davidi? Il signor Camè. Eh beh, io ho visto il tuo video, mi ha molto interessato, è stato il primo detto, vabbè se devo vedere il primo video almeno che sia di uno che ha il canale a riguardo, no? Prima di andare avanti iscrivetevi per entrambi i nostri canali, Cinefranc e Valinor per lui e per me, ovviamente anche a Dinhammer, perché usciranno otto live al giorno proprio sul tema, quindi, o sulle nuove uscite, quindi se vi piace quel mondo lì. Io ho qualcosa da dire, nonostante sia quello che non è esperto, ma ho qualcosa da dire anche per fare un recap di quello che penso della saga del Signore di Anelli, visto che non l'ho mai detto qua sul canale, quindi supportateci. Allora, iniziamo col box office, dai, senza perdaci in chiacchiere, c'è tanto da dire, tantissimo da dire. Come al solito, prendiamo nel weekend le prime cinque posizioni, con uno sguardo anche sul resto della classifica, vi dico gli incassi a partire dal budget con la regola del tre, quindi se un film incassa o meno. Abbiamo quinto posto, Godzilla e Kong, che resiste ancora, incredibilmente, con budget 135, 559, 560 milioni, quindi un super successo, uno degli incassi maggiori dell'anno. Poi, nuovo film, Tarot, da noi, La profezia del male, recensione sul canale come anche di Godzilla X, che 8 milioni incassa 20 in tutto il mondo. Ce la farà a fare 24, quindi il triplo è della Sony, e quindi, a differenza di Abigail, che costa 30, è costato 30, e ne ha incassati 35, e si ne ha incassati 20, ma ne ha spesi 8, quindi va benissimo, nel senso. Challengers, godo tantissimo, è un flop ufficiale, 55 milioni di budget, 68,5. Mi dispiace, non fa manco il doppio, e si gode tantissimo. Secondo posto, The Fall Guy, 130 milioni, tanto il budget, infatti, è fermo a 103 milioni, quindi non ce la farà a fare neanche il doppio, credo, un grande flop. E primo, nella sua prima settimana, il regno del pianeta delle scimmie, The Kingdom of the Planet of the Apes, che è uscito anche in Italia, ne ho parlato con due video, non mi è piaciuto, scoprite il perché. Che però, inizia benino, perché 120 milioni, la prima settimana, in tutto il mondo, non è male, ma è costato 160, quindi dovrebbe fare 480 milioni. E la prossima settimana, nelle prossime, arriverà Furiosa, e IF, questo giovedì che andò a vedere. Quindi, non lo so, non lo so se ce la farà. Io dico che sulla lunga distanza fa sui 300 milioni, cioè non riesce a fare più di 300 milioni, perché non se ne parla benissimo, alcuni è piaciuto, altri no, ma non è quel film clamoroso che tutti dicono, non deve andarlo a vedere, anche perché dura due ore e mezza, inutilmente, l'hanno sottolineato un po' tutti, quindi, è questo. Dopo vi dico altre posizioni fuori dalla top 5, ma prima faccio andare al cinefranc. Che cosa ha visto di nuovo, che cosa non ha visto? Mi manca Kingdon, non mi attira manco per l'anticamera del cervello, non mi è mai piaciuta la saga di Piene delle Scimmie, quindi non mi attira questo film, tantomeno dopo la recensione tua, quindi penso che rimarrà là per un bel po', penso che me lo recupererò quando uscirà in streaming. The Fall Guy è la sorpresa negativa. Non mi aspettavo che flopasse, che alla fine questo è un flop, su tutta la linea. Considerando voi che c'è Ryan Gosling, c'è, come si chiama, la Blunt, insomma, ci sono due attori di tutto rispetto lì dentro. Oddio, Ryan Gosling un po' il mio rispetto l'ha perso dopo quella pagliacciata, che conosciamo bene però. è sicuramente uno degli attori più in vista a Hollywood, quindi è strano, è molto strano. Aveva tutte le carte in regola per fare tanti soldi e invece è flopato. Sarebbe da... ecco, sarebbe un caso da analizzare di The Fall Guy. Come mai? Come va a fare incastrato così poco? Challengers? Non mi aspettavo, anzi, mi aspettavo pure peggio, perché ovviamente il passaparola è stato micidiale per questo film. Già è tanto che secondo me ha quantomeno equiparato la spesa, il budget. Si meritava di floppare ancora più, in modo ancora più evidente. Però, vabbè, Tarot. Che t'avevo detto, Arca? Posso dire te l'avevo detto? Posso dire te l'avevo detto? E non l'avevo ancora visto. Però si era capito già. Si era capito già che film avremmo avuto davanti. E è il film che ha avuto più successo, a quanto poi. Ma l'hai visto? Sei riuscito? Certo che l'ho visto. Sì, senti, e per questo ti dico, te l'avevo detto, perché ho avuto la conferma. Ovviamente non posso, non l'ho fatta la recensione, perché mi sto dedicando un attimino, un po' più focalizzando sul canale Valinor, perché è un periodo un po' particolare. Poi quanto prima ritornerò, ovviamente, come sempre, a fare recensioni. Però sono d'accordo con ogni parola che hai detto nella tua recensione. La pensiamo allo stesso modo. Ma questi sono i classici film che mettono d'accordo un po' tutti. Cioè, è proprio il filmetto horror fatto per guadagnare il triplo di quello che si va a spendere. L'unica cosa che mi è mazzardo a dire è che, quantomeno, la regia, nella sua banalità, è fatta bene. È figa, sono d'accordo con quello. Non è male. Ma le scene oniriche non sono affatto male. Poi il resto del film un po'. La regia in generale, il jumpscare, ok, però almeno il jumpscare è fatto bene, ok? Ci sono 60 jumpscare, ma a me ne sono fatti bene. C'è qualche scenetta ancora ancora un po' più interessante. Il resto è il solito, insomma. E poi Godzilla, vabbè, sta sempre là, ha fatto il triplo. A quanto è arrivato? Più quattro volte l'anno. Quattro. Assurdo. Tantissimo. Fuori dalla classifica, invece, dico giusto due titoli, così andiamo a scoprire vecchie glorie che stanno facendo. Alla fine, il nostro Kung Fu Panda è ancora lì, ottavo, ha fatto 529 milioni. Continua a fare qualche soldino. Abigail, flop, 30 milioni, è costato, ne è incassati 37,5. Io lo devo vedere domani. Alla sera. È costato troppo, 30 milioni è troppo. 8 milioni dove la costai, non è come Tarot. Eh, sì. Infatti. Poi, vabbè, c'è Ghostbuster, che ancora non è arrivato manco a 200 milioni, ma ci manca poco, 198,5. Monkey Man è incassato due spicci. First Home, rimane un flop, costato 35. È incassato 52,5. Questi a grandi linee. c'è ancora Dune, parte 2. E basta. Questi. Per il resto, niente di che. Insomma. Ah, Civil War, voglio darvi una buona notizia in parte, perché sta ancora incassando. Sono contento perché a 107,5, quasi il triplo, cioè gli manca, non arriverà mai a 150. Però, se si fermasse a 110, 115, sarebbe quasi un successo. Quindi sono contento. Posso dire il ruolo. Si vuole una soddisfazione. Veramente una soddisfazione. Finalmente, ogni tanto, qualcosa di positivo. Anche perché è un film difficile per il pubblico, quindi comprendo che la gente non si fiondi al cinema per andare a vedere questo film, però comunque, se incassa 3 milioni a settimana, forse può arrivare a 115, 120, va. Colpo di fortuna. Vedremo, vedremo. In Italia, invece, come si è ammessi? Solito riciclo dei film americani? Andiamo a scoprirlo. Primo posto, il regno del pianeta delle scimmie. Aspetta, fatemi prendere la pagina proprio aggiornata. Che incassa 1 milione e 200 mila euro. Poi, il segreto di Liberato, che era il documentario videoclip di un cantante. che sta piacendo tanto. Io non l'ho visto, anche se era il cinema. È un cantante napoletano di cui non si conosce l'identità. È misterioso. Regia di Lettieri. È l'idolo dei ragazzini, insomma. Ah, ok. Ne parlano come di una sorta di videoclip documentario molto sull'artista. Non lo so, non l'ho visto, non mi interessa, quindi niente. Poi Garfield, una missione gustosa, che ancora lì incassa bene e ha fatto in totale un milione. Un milione e 6. Quarto, La profissità del male. 430 mila euro, un po' pochino, mi aspettavo di più. Challengers rimane quinto. Un milione e 6 in tutto. Poi c'è Le Fall Guy, che scende sesto. Ha fatto solo un milione e 6. Il gusto delle cose, di cui ha parlato Nick DeLarge, che è andato a Cannes l'anno scorso. Lo vorrei vedere. Era fatto molto poco. Sarò con te, quello che era prima la volta scorsa, quello sul Napoli che ha vinto lo scudetto. Mother Instinct, che ho visto e che consiglio a Cina Frank, soprattutto per il Grand Cast, solo nono. Mi dispiace, però vabbè, si sa. Confidenza, che rimane ormai in chiusura, fra virgolette, con un milione e 570 mila euro in totale. Niente, questo qua, grandi linee, titoli prevedibili, nel senso che c'è il nuovo film americano, poi c'è il film sull'artista italiano, quindi la gente lo va a vedere, c'è Garfield che rimanerà, Talot, Challengers, insomma. Mi aspettavo più Talot, devo dire la verità, più in alto, invece era solo un quarto. Il segreto del Liberato è un po' Giannananini, il film di Giannananini che tu ti sei piacevolmente goduto. Io l'ho goduto tramite la tua recensione, quindi certo non mi metto a perdere due ore a vita mia. È presso il film di Giannananini, quindi. Sai che tu stavi mangiando il sushi, immagino, quindi... Sì, infatti ho dato di traverso. Allora, vabbè, però tu sei furbo, sei furbo perché da una parte ti affliggi una pena e dall'altra ti affliggi un premio, quindi sei furbo su questo e compensi. Anche io potrei guardare un film di Giannananini mangiando il sushi, quindi sei, diciamo, dovresti farlo a stomaco vuoto e poi vediamo quanto sei coraggio. Eh, stiamo là con il segreto del Liberato. Infatti il segreto, come ti dicevo prima, è la sua identità, essenzialmente. È famoso soprattutto a Napoli, quindi purtroppo ne so qualcosa. Garfield, sta sempre là, è film per famiglie. Talot, pure a me, in solito mi ha stupito, mi aspettavo più alto. Di solito questi filmetti un po' così in Italia vanno bene, però... hanno preferito il pianeta delle scimmie, qui non è che ci sono andati tanto meglio, in realtà, a quanto pare. Challengers, io sento a credere che sia ancora in top 5, ovviamente il passaparola gli ha letteralmente troncato le gambe, anche in Italia. Ha fatto quei quattro speech, ma perché è un regista italiano, Luca Guadagnino, quindi... Una settimana, eh? Perché arriva in Leif, arriva in La Furiosa, arriverà Abigail. E guarda, è probabilmente il più grande flop della carriera di Guadagnino, perché Guadagnino solitamente i soldi li fa, gli incassi li fa, attira gente. Probabilmente è il suo più grande flop, probabilmente il prossimo film tutti questi soldi non gli riteranno. E di certo non si potrà permettere di ingaggiare grandi star americane per fare il suo prossimo film, o poi staremo a vedere. E nulla. Questo è, insomma, niente di speciale in Italia, dalle coste italiane. In realtà, stavo vedendo, Call Me By Your Name ha incassato 43 milioni, ma il budget era... Call Me By Your Name, budget... Però era 3.5 milioni, cioè ha incassato 10 volte, e quindi è un po' diverso. Ma poi stai parlando di un film che è uscito, quando è uscito? Almeno 10 anni fa, 15 anni fa. Sì, ma poi ha vinto anche un premio Oscar con... Beh, il premio Oscar, se non so, poi l'ha vinto dopo. Mi ricordo che è uscito prima al cinema, poi... Sì, ma è uscito prima al cinema, e poi è andato agli Oscar, se non ricordo male. Poi, vabbè, Suspiria nel 2018 ha incassato 8 milioni. Non ha mai incassato tantissimo, eh? Cioè, i film più noti. Bones and All, scusa. Come si chiama? Chiamami col tuo nome e ha incassato tanto. 45 milioni su 8 milioni di budget? No, no, no. 3.5. 3.5 milioni è costato, ne ha incassato in 40. Eh, per questo sto dicendo, ne ha incassato tantissimo rispetto al budget. Bones and All, 15 milioni, cioè, nel senso, non ha mai incassato così tanto, anzi... Ma su che budget? Eh, infatti sto vedendo. Però dico che qua ha aumentato fin dopo il budget, e alla fine non ci fa niente. 16-20 milioni, anche qua è stato un flop, quindi alla fine tutti sti incassi, un guadagnino mica li porta. Vabbè. A parte il primo, ebbè ma il problema è qua è stato l'ingaggio di Zendaya, chissà quanto gli avranno andato a Zendaya, a meno di una decina di milioni erano andato per fare con le scenette del cazzo. Sì, 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 più di 10 milioni, da quello che so. Ovviamente. Vabbè, la grande star è diventata. E adesso la stanno odiando tutti negli Stati Uniti perché hanno fatto il mergala, il mergala, la sfilata strana, e le persone stanno associando i grandi star come lei che sono andati al mergala a fare i cazzoni con la guerra che ci sta in Siria e Palestina. Gli americani lo sai che seguono molto da vicino perché loro si spaccano tra filo israeliani e filo palestinesi in America e le persone stanno criticando le grandi star che sono andati al mergala perché vorrebbero da loro invece che si impegnassero a far smettere la guerra. Ovviamente sono le grosse cose populiste, però Zendaya è stata presa molto di mira, perso un po' di, diciamo, di aura da Santa, da Santa VIP, quale aveva prima. Io mi immagino l'americano medio che guarda la tv e va nel suo bunker sotterraneo, quello anti-guerra, e c'è il suo ordigno che tocca e fa il mio tessoro, ti userò, ti userò, ordigno. Ma qua li hanno quasi tutti i bunker, anche i sotterranei, e ti dico la verità, loro hanno più motivo di noi di averli sinceramente in Italia, voglio dire. Sì, certo. Allora, alla fine, se scoppia una guerra, loro fissi ci so, non si scampano. Quindi, questi sono gli incassi, andiamo, facciamo prima il Taylor facile, poi andiamo su The Lord of the Ring, Hunt for Gollum, andiamo. No, è Quiet Place giorno 1. Lo so, ve ne siete dimenticati, ma questo film esiste e deve arrivare. Prima di iniziare e parlare del Taylor, poi non parliamo del nostro rapporto con la saga di È Quiet Place, due film diretti da Krasinski con la moglie bravissima e bellissima Emily Blunt. Qua non tornerà, nuovi attori, Lupita Nyong, c'è infatti, l'avevo vista, Joseph Quinn, e basta, poi gli altri sono a me disconosciuti. Ora, nel nuovo dico, nei primi due È Quiet Place, cosa ne penso? Io ho sempre, vabbè, forse lo sapete già, io non amo il genere horror, perché, non perché sia un brutto genere, cioè, non perché siano sempre brutti film, anzi, amo i film di D'Argento e anche alcuni di Bava, alcuni di Registri Horror, proprio duri e puri, proprio fermi sul genere, ma sicuramente l'horror, per sua natura, è semplificazione. Cioè, tu non puoi fare una trama complessa con un film horror come viene inteso oggi. Deve essere sempre molto, molto semplice, e questa semplicità porta delle regole fisse che sono ormai degli stereotipi che fanno ridere. Cioè, se è il killer che ti insegue a uno all'ora, mentre tu cerchi di scappare, ti barrichi dentro una stanza, però il killer ti avrebbe potuto uccidere in 57 modi diversi. E tutti quei cliché che sappiamo. Ok? Dove la trama viene innescata da una minchiata. Cioè, io devo... Ciao Kelly. Fame. Cos'è? Scusate, ma ho fame, ho tanta fame, ma poi magari tagliamo arca questa. Thank you. No, ma invece è quelli. Maionese. Maionese. No, 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 non è pasta con maionese. Thank you. Thank you, thank you. Thank you. È tipo il gatto, sembra, vabbè, ma vedelo così. Comunque. Scusate, ma ho chiesto scusa, ma ho famissimo. Oggi ho lavorato, ho fatto mille cose e non ho ancora cenato. La mia ora di cena. No, no, ma sono io che ti ho chiamato tardi, quindi va bene così, tranquillo. Dicevo, ci sono tutti questi stereotipi che mi fanno un po' cagare. Ecco la verità. Nel migliore dei casi un horror può farmi divertire, come Tarot che mi ha steso da ridere con il demone trollone che prende alla lettera quello che c'è scritto nell'oroscopo. Quindi tu inciamperai sulla buccia di banana, lui ti fa inciampare sulla buccia di banana. Mi ha steso da ridere. Ecco. Quindi al massimo con un po' di comicità, se proprio devo dirlo. A meno che non sia un grande horror. Quindi allora lì è una cosa diversa, tipo Carpenter, ecco. Per dirne uno. Ora, quando è arrivato A Quiet Place il primo, ho sentito dire Capolavoro! No, questo è un capolavoro! Perché nessuno può... Quindi l'ho visto con ritardo, perché quando mi dicono così io non vado a vederlo. È proprio una cosa fisiologica. E quindi l'ho visto dopo un po' di tempo. E in effetti ha una bella trovata. Oltre che c'è una buona regia di Krasinski, oltre che c'è la Blunt, c'è una buona idea. Cioè il silenzio. Il silenzio è una storia semplice dove devi stare in silenzio. Anche se c'è un buco di sceneggiatura. Vabbè, lo lasciamo perdere. Sennò ancora la gente si incazza. All'inizio proprio del film, dove non si fa silenzio, che non ha senso, lo lasciamo perdere. Il film, il primo film è buono. Sicuramente buono, ha il suo fascino. Poi c'è il secondo. Non era richiesto. E infatti si nota. Perché vuole allargare il mondo di A Quiet Place, ma non ci dà reali informazioni con quel finale aperto, dove è la brutta copia del primo. E mi sono molto incazzata al tempo. C'è la recensione sul canale, ve la metto qua sopra. Ero proprio fuori dal Duomo, ai tempi in cui c'era ancora il The Space in Duomo, che adesso l'hanno tolto. E quel film mi fece molto incazzare perché era stupido. Stupido perché non allargava il campo, essenzialmente. Quindi chiudo velocemente su questo nuovo film, che non è diretto da Krasinski, ma da Michael Sarnosky. Qua non è il Quiet Place originale. L'hanno reso un film catastrofico, stile Godzilla. Cioè esplosioni, robe, la gente che fugge, quindi sorta di Cloverfield. Cioè Lupita Nyong, sono contento, è una grandissima attrice che deve lavorare anche di più, però è un altro tipo di film. Secondo me non sarà più, non avrà più quel taglio del primo è Quiet Place e va bene così, essenzialmente. Spero che sia almeno di intrattenimento. Questo, spero. E basta. Perché per il resto si è visto poco. Grandi linee, sono abbastanza d'accordo con te con i suoi primi due. Il primo è... diciamo che ha sfruttato in modo interessante la potenzialità dell'idea di base, per quanto non sia originale al 100%, perché bene o male in ogni film horror devi stare zitto, devi fare silenzio, se no il mostro ti attacca. Credo che sia abbastanza ovvio. Però il film la utilizza in modo estremo. Quindi quell'estremizzazione di quell'idea ha reso il potenziale dell'idea. Il secondo film non necessario. Semplicemente non necessario. Come sempre, i seguiti devono aggiungere qualcosa al film, alla saga. Ai seguiti di un primo film di una saga. Quel secondo film non ha aggiunto nulla. Fece arrabbiare anche a me, soprattutto il finale mi fece incavolare di brutto. Ci rimasi male perché il primo film mi era piaciuto. È uno dei miei horror, posso dire, preferiti. Proprio perché è interessante, è intrigante. Per quanto non sia un capolavoro, ci mancherebbe. Il secondo, purtroppo. Questo terzo film, che comunque fa parte della saga, ed è essenzialmente un origin story. Ci raccontano come sono arrivati questi mostroni. L'hanno fatto probabilmente perché si sono resi conto che fare un terzo film, un ulteriore seguito, sarebbe andato anche peggio del secondo. Perché la potenzialità dell'idea era stata sfruttata già nel primo film. Nel secondo già l'idea è diventata noiosa. Infatti hanno cercato di variare la cosa. Però, ecco, perdendo l'idea originale, cambiandola, tu hai perso il potenziale della saga, il potenziale del film. È diventata una saga horror qualunque. Quindi loro si sono resi conto che un potenziale terzo film, sempre utilizzando la stessa idea del silenzio, sarebbe stato un flop colossale, perché le persone vorrebbero vedere qualcosa di nuovo. Quella idea è stata già sfruttata. E sono intelligentemente, da una parte, hanno detto, vabbè, andiamo indietro nel tempo, dove le persone possono ancora parlare. E infatti questo l'hanno fatto. Ora, il trailer che ho visto mi ha dato un po' la sensazione di un mix tra Jurassic Park e anche per come si comportano questi mostroni e io leggenda. New York... No, è un mix tra le due cose. Quindi non c'è nulla di originale, i mostroni non hanno nulla di originale, se non che il fatto, vabbè, si possono sfruttare l'udito per attaccare, per cacciare le proprie prede, ma, ripeto, non è niente di particolarmente, di trascendentale. Quindi si rivelerà un filmetto apocalittico con i mostroni, come tanti altri, perché, ripeto, l'idea ormai è stata sfruttata, non ha perso, quindi di originalità, ha perso di potenzialità, perché la gente, appunto, si annoierebbe a vedere un'altra volta la stessa dinamica del primo film, e quindi adesso non sanno come portarlo avanti e si sono inventati sta origin story, probabilmente per chiudere la trilogia, che vada bene o vada male, io credo e spero, da una parte, la saga si chiude e concluderà con questo film. Io almeno lo spero, perché che cazzo vuoi dire di più? Cioè, se hai raccontato l'origin story, hai raccontato l'idea, il film di base, quello in mezzo, il secondo film, hai raccontato il seguito, che cazzo vuoi dire di più su sta storia? In realtà mancherebbe la cosa più importante, come li sconfiggono nel presente, ancora non ce l'hanno fatto vedere. Ma ne abbiamo bisogno? No. Tu sei così curioso di vedere come li sconfiggono. No, 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 però teoricamente sì. Utilizzano una stronzata in stile Mars Attack, ti ricordi Mars Attack? La frequenza che fa esplodere il cervello a Ieyumai yavieni? Però dico, teoricamente ci sarebbe anche margine, ma non credo, sono l'accordo con te. Non dargli idee, non dargli idee. Per me si potevano per malprimo, quindi penso che per molti, perché sarebbe stata una perla nel genere horror, sarebbe rimasta così in quanto tale, invece no. Non so quanto è incassato il secondo, ma mi sa che non è incassato granché, probabilmente sto terzo, dato che non c'è manco il registro originale, incasserà ancora di meno. Quindi sono cazzi d'oro, stanno spendendo soldi, sperando, pregando che possano guadagnare ancora, spremere ancora qualcosa su questa saga, sul successo del primo film. Ma non è una proiezione, ovviamente la conosciamo bene, entrambi in operazioni del genere si fanno di continuo. Il primo film va bene, un film va benissimo, ci si crea una saga intorno, fin quando la saga inizia a perdere di incassi. Una volta che la saga ha perso di incassi, la saga si ferma. Sembra solida storia, insomma. No, in realtà entrambi hanno incassato, perché il primo ha fatto di più 340, il secondo 290, il secondo 17 milioni, e ha incassato 200 e passa. Ma forse non l'hanno parlato bene. Il primo invece ha incassato anche di più, secondo me, come budget. 17 milioni conta 140, che è tantissimo. Quindi... Voglio vedere la quotazione sull'Eton Tomatoes di A Quiet Place 2, velocemente. Ha una quotazione molto alta in realtà. Siamo sul 90%. Vabbè, ma tutti i film sono sul 90%. Cioè, bea di loro. Mi stupisce della cosa, però, a quanto pare piaciuto il secondo. E però, rispetto al primo, secondo me, ha deluso. Credo. A me sì, a me sì. Non ma per molti, credo. Beh, c'era lì, c'era la Blunt, se non sbaglio, nel secondo. Sì, sì, c'era la Blunt. Vabbè, vediamola, vediamo, stiamo a vedere, magari ci stupiscono, che ne so. E dal trailer non credo, mi sembra tutto abbastanza prevedibile. Ah, c'era anche l'attore lì, l'attore di colore. C'era pure i miei Kylian Mafia, attenzione qua, il test 2. Allora, andiamo a parlare del main event, fra virgolette. Qua farò parlare di più Cinefranc, che ci farà un po' il sunto, anche se ha nuove notizie. Inizio io, spiegando un po' la questione. Ormai, lo sappiamo, non c'è bisogno che dica troppo, e il boss della Warner, Zaslav, ha detto, raga, siamo a faflop, perché, tolto Barbie, che ha incassato uno sfacelo, la Warner ha fatto cagare, l'anno scorso, a livello di guadagni. C'è un video, sul mio canale, dove, se lo cercate, incassi del 2024, ve lo metto qui nella scheda, e dove vado, a parlare della Disney, della Warner, della Sony, della Blue Mouse, eccetera, per spiegarvi chi è incassato, e chi no. e la Warner, tolto Barbie, che è l'unico grande successo, gli altri sono tutti flop, soprattutto, della DC, quindi, è andato male, e quindi, rispolvera, delle licenze, che hanno in casa, e giustamente, dicono, ma che, il signore di anelli, che vogliamo fare? e si fa, quindi, tre nuovi film, dice, Zatlav, con il team, di, PJ, come dice, CF, Cine Frank, con il suo, insomma, cast, no, cast, il gruppo storico, che lavora in fase di sceneggiatura, tre nuovi film, il primo sarà, Caccia Gollum, Hunt for Gollum, diretto, interpretato da Andy Serkis, il secondo non si sa, il terzo non si sa, non si sa niente, al momento, è appena uscita, la notizia, prima di far andare, Cine Frank, vi dico, quello che penso io, molto velocemente, e il mio rapporto, con il signore degli anelli, ora, io, in realtà, ho letto, Simmarillion, in parte, da ragazzino, perché mi interessò, l'essi anche un po', il signore degli anelli, ma non mi colpì, non so perché, sono strano io, in realtà, so il perché, perché il problema che ho con la saga, anche cinematografica, è che è una grande favola, i buoni contro i cattivi, quindi, nonostante sia scritto benissimo, nonostante i film siano, molto ben fatti, ci mancherebbe, e sono sempre buoni contro cattivi, a me le storie buoni contro cattivi, non mi piacciono, in nessun modo, manco, se dovesse dirigerlo, Orson Welles, o Stanley Kubrick, cioè, proprio, è una cosa che, mi fa, è un po' come, guardare Gianna, Nannini, mentre ti stai gustando, il sashimi, il tonno, capito, c'è proprio, una questione che, ti va, capito, e, quindi, nella trilogia, originale, il primo film, la compagnia, è bellissima, è splendido, il secondo è un po' inutile, il terzo, non è fatto male, ma, la risoluzione, non, non è mai piaciuta, onestamente, sull'Hobbit, sono film fatti male, cioè, la CGI è terrificante, e anche sta storia, non è così interessante, c'è solo un, Cumberbatch, che fa il drago, da, da vedere in lingua, originale, per, per gustarselo, ma, per il resto, non è una saga che mi colpisce, quindi, mi interessano questi nuovi film? No, teoricamente, no, non mi interessano, però, devo considerare, che magari, qualche spin-off, su dei personaggi, in particolare, dovrebbe essere interessante, io, so che non lo faranno, ma un piccolo focus, su Galadriel, lo vorrei vedere, pure un piccolo focus, su Aragorn, magari, messo, già in questo film, perché, come dirà Cinefranc, si narra, di quello che è successo a Gollum, prima degli eventi, o meglio, nel mezzo degli eventi, della, della trilogia, originale, qualche focus, su dei personaggi, mi piacerebbe, cioè, stare nel mezzo, quindi, la storia, la sappiamo già, piccoli inserti, potrebbe essere anche interessante, non lo so, cioè, è un film come tanti, non lo aspetto, e niente, questo, Frenk, invece, ha tanto da dire, teorie? Sì, 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 qualcosa l'hai detto già tu, il film, il problema del film, potrebbe essere, l'unico, forse, al momento, che abbiamo riscontrato, che ho riscontrato, almeno personalmente, il tempo, e che la, sì, è perché, la caccia a Gollum, avviene tra, la festa di Bilbo, e la partenza di Frodo, dalla Contea, nei libri, tra le due, i due eventi, tra la festa di Bilbo, e la partenza di Frodo, con l'anello, passano 17 anni, nei film, sembra che passino, qualche, passi qualche mese, al massimo un anno, quindi, loro dovranno concentrare, per far rientrare, questo film, nell'universo, jacksoniano, perché tutti gli effetti, un universo jacksoniano, dovranno concentrare, questo film, in un periodo di tempo, molto striminzito, quindi dovranno inventarsi qualcosa, però, siamo nei dettagli, cioè, qui non si parla, della natura, del significato, dell'universo torqueniano, come accade, con quella, pagliacciata, di serie rings of power, dove lì, è solo stravolto, proprio il significato, dell'universo torqueniano, qui si parla, di un dettaglio, cronologico, che, su cui, si potrà, se dovessero, tirar fuori, un film accettabile, quanto meno accettabile, si potrà, tranquillamente, passare, verso sopra. I presupposti, per fare bene, ci stanno, perché c'è, la Walsh, che è la moglie, di Peter Jackson, che è una bravissima, sceneggiatrice, ha sceneggiato, insieme alla Boyance, la trilogia, jacksoniana, che, al di là, poi, giustamente, delle riflessioni cinematografiche, che possiamo fare, che tu hai fatto, che potrei fare, io, io, come sai, guardo il film, da due punti di vista, da recensore cinefilo, e da torqueniano, quindi, io sono in conflitto, perché è palese, che alcuni, ci sono, ci siano alcuni difetti, non è una trilogia perfetta, da un punto di vista cinematografico, è una trilogia perfetta, per gli intenti, e per come è stato trattato, l'universo torqueniano, quello sì, infatti, la sua iconicità, l'ha raggiunta, per quel motivo lì, gli autori sono gli stessi, la Walsh, e la Bynes, gli stessi della trilogia, Jackson, non è il director, non è il regista, dichiarato, ma lo è Andy Serkis, Andy Serkis, non mi fa impazzire come regista, da quello che sono, nemmeno a te, però, Jackson sarà coinvolto, a tutti i livelli, quindi, possiamo immaginare, che farà la supervisore, essenzialmente, quindi lui, darà un occhio, a tutti i lavori, sarà attento, a tutto il processo lavorativo, della Sera, a tutto il processo creativo, e Serkis, dato che comunque, dovrà anche recitare, ovviamente, ovviamente, seguirà le direttive, di Jackson, essenzialmente così andrà, infatti le notizie, hanno affermato, che comunque c'è Jackson, alla fine, alla guida di sto film, quello che mi preoccupa di più, in realtà, che ci ho pensato poi, lì, nel momento, vabbè, non mi è venuto, tanto in mente, di pensarci a sta cosa, ma ci ho pensato, poi dopo, loro stanno lavorando, sulla sceneggiatura adesso, e sappiamo, almeno io so, quanto è difficile, lavorare una sceneggiatura, sui scritti di Tolkien, perché, devi riuscire ad adattare, un universo, come quello tolkiniano, che è uno degli universi, fantastici, più complessi, che si è mai esistito, stanno ancora lavorando, la sceneggiatura, Zaslav, lì, come si chiama lui, ha detto che il film, potrebbe uscire nel 2026, due anni, hanno due, anzi, meno di due anni, due anni, circa, per fare, concludere la sceneggiatura, partire la produzione, perché, se stanno ancora lavorando, la sceneggiatura, la produzione, ancora non è partire del tutto, perché non sanno ancora, che cazzo preparare, partire con la produzione, fare il casting, cosa che probabilmente, stanno facendo già adesso, preparare il tutto, girare, girare, e soprattutto, post produzione, comunque un film fantasy, già solo per il lavoro, che devono fare su Gollum, tutto il lavoro di, di motion graphic, e tutto il resto, gli prenderà almeno un anno lì, come canzano? Una domanda Frank, ma tu credi, che in questo nuovo film, usino più gli effetti speciali, della trilogia vecchia, quindi artigianali, o più, all'hobbit insomma? Lì, lì sarà una, bella domanda, perché io spero che Jackson, abbia imparato, dai propri errori, perché sappiamo tutti, che il terzo film, dell'hobbit, è praticamente Warhammer, è un videogioco di Warhammer, è orribile da guardare, con la battaglia finale, proprio brutta, perché sono degli spilli, che ti penetrano negli occhi, fa proprio fastidio, e mentre la trilogia, della destina di anelli, sappiamo che il punto forte, era la naturalezza, dei landscape, dei paesaggi, delle location, location, era quello che ti dava, ti distribui quella, quella sensazione, di vivere veramente, all'interno di quel mondo, e spero che Jackson, questa cosa l'abbia capita, l'ha capita, perché non è stupido Jackson, dobbiamo capire, vedere, più che altro, verificare, se ne considera la cosa, la mia speranza, è che possano tornare, a girare in Nuova Zelanda, tranquilli, come hanno fatto, con la trilogia, del signore di anelli, e fare le cose, come hanno fatto, col signore di anelli, almeno da un punto di vista, rimesso in scena, ma comunque, ci sarà bisogno, di nuova lavorazione, di post produzione, perché, non possono di certo, dargli un tocco vintage, Arcana, quindi se ci aspettiamo, lo stesso stile, del uguale, al signore di anelli, di vent'anni fa, stiamo, stiamo, siamo dei babbei, comunque, dovranno dargli un, un tocco moderno, invece sarebbe vincente, renderlo vintage, no, perché alcuni, per alcuni sì, per altri no, basta vedere, poi, la mia speranza ulteriore, è che vogliano, dimostrare, di poter fare le cose, in opposizione ad Amazon, ci sarà ovviamente, un conflitto, tra Amazon e Warner, perché, Amazon, è il, con la serie, hanno, hanno, la post-produzione, è tutto, lì è tutto, è tutto post-produzione, la serie, se Jackson, vuole ulteriormente, dimostrare, che lui, le cose, le fa, nel modo giusto, in contrapposizione, appunto, a come l'ha fatta Amazon, potrebbe scegliere, la via più naturale possibile, anche appunto, per mettersi in contrapposizione, ad Amazon, vediamo, vedremo come, cosa sceglierà di fare, la mia speranza, è la tua, che trattino il tutto, in modo, il più naturale possibile, rimanendo il più, anche perché, ce l'hanno la possibilità, hanno la Nuova Zelanda, porca miseria, abbiamo visto, che la Nuova Zelanda, è una terra di mezzo perfetta, utilizzala, siamo nello stesso luogo, nelle stessi posti, perché non utilizzi, la stessa Nuova Zelanda, oh, magari lo farà, attenzione, la Contea, sta ancora là, probabilmente, la Contea, non lo so, se la mostrerà, io credo di no, perché, nella storia, non c'entra, a parte, Bilbo Baggins, Gollum, si mette a cercare Bilbo Baggins, ma, i personaggi, non vanno nella Contea, in quel momento lì, potrebbero fare un cameo, gli Hobbit, e dato che la Contea, sta ancora in Nuova Zelanda, potrebbero utilizzare ancora quella, quindi, c'è il modo, per tornare, in lo stesso luogo, e, ripercorrere, il percorso, fatto, con, il Signore Anelli, la domanda, però, è la seguente, la Warner, vuole quello? perché Jackson, probabilmente, sì, e anche Serki, sono sicuro, ma la Warner, che cazzo vuole la Warner? E questo, questo, si vedrà, si vedrà con il primo teaser thriller, che è il trailer, dove uscì l'anno prossimo, perché, se tu mi dai, una data, 2026, tu, il primo trailer, per un progetto del genere, me lo devi far uscì, almeno un anno prima, quindi, io me lo aspetto l'anno prossimo, in questo periodo qui. Sì, sì, penso anch'io, che ci voglio un anno, adesso è stato introdotto, è stato detto che... come lo fai un film del genere in due anni, Arca? che stai... magari... come lo fai? Allora, arriva a Natale, 2026, quindi sono due anni e sei mesi, ma è poco, Arca, ma per me è poco, poi, allora si prenderà un anno in più, e infatti c'è niente di male, però, non la sparare così grossa, perché, secondo me, la sparata un po' grossa, dicendo 2026, oh, se poi si pigliano quattro anni, e mi cacciano un filmone, va bene, venga, io sto in silenzio, e mi controllo del film, vediamo. Ultimo spunto, cosa ti aspetti, e che cosa vorresti per gli altri due film? Vado io velocemente, io vorrei, per esempio, un film, lo so che non è negli scritti di Tolkien, sicuramente non c'è, però, stiamo immaginando, stiamo andando anche oltre l'autore, una storia, che ci racconti l'inizio di Sauron, sì, che è stato detto, nel caso, però, non è stato mai esplorato nei film, cioè, come Sauron, come è diventato così, un piccolo focus su quello, io vorrei qualcosa sugli Elfi, per dire, su queste tematiche qua, che, non possono arca, perché non hanno anche i diritti, no, eh, come tutti, le origini storie, il Silmarilio, non ce l'hanno il Silmarilio, loro hanno il Signore degli Anelli, eh, Arca, stai entrando in un campo estremamente minato, perché i diritti sono in mano alla Tolkien Estate, la Tolkien Estate è tipo Scrooge, non so se avete l'idea, la Tolkien Estate tratta Tolkien come il maiale, non si butta niente, e devi guadagnarci su ogni suo pezzo della sua narrazione. Quindi, quindi su cosa potrebbero fare i film, su cosa hanno i diritti? Signore degli Anelli, basta. Infatti la paura, l'ulteriore paura, è che avendo sviscerato praticamente quasi tutto, del tramma principale del Signore degli Anelli, loro possano utilizzare qualche informazione del Signore degli Anelli, eh, diciamo, va oltre il Signore degli Anelli, ma, per, costruire poi, una sceneggiatura, a partire da quelle informazioni, si devono inventare cose. Gandalf lo possono fare? E' Gandalf, il Signore degli Anelli, certo, però bisogna capire sempre, bisogna, allora, il problema è che questa storia che loro vogliono raccontare, è solo accennata nel Signore degli Anelli, non viene raccontata nel complesso, nel completo, quindi dovranno inventarsi qualcosa, dovranno romanzarla, come faranno, cosa faranno, non si sa, però, la tua, il tuo desiderio, sarebbe anche il mio, vedere il Silmarillion, il Silmarillion è il mio libro preferito, in assoluto, è il mio libro dell'infanzia, l'ho letto la prima volta a 13 anni, sono cresciuto col Silmarillion, ce l'ho lì, quello è il Silmarillion, quello è il Silmarillion, questa è la prima edizione assoluta inglese del Silmarillion, per me il Silmarillion è la mia Bibbia, tutti gli effetti, per me sarebbe un desiderio, ovviamente irraggiungibile, vedere il Silmarillion cinematografizzato, ma è impossibile, sia da un punto di vista tecnico, perché il Silmarillion è troppo complesso, da per renderlo a film, ma soprattutto perché, nessuno ha i diritti attualmente del Silmarillion, tantomeno la Warner Bros., non ce l'ha manco Amazon, che stanno cercando di spingersi il più dietro possibile nel tempo, seconda era, prima era, ma non ce l'hanno manco loro, infatti Amazon ha inventato mille cose, e molti l'hanno giustificato, lo ascempio che hanno combinato, dicendo, eh ma non avevano i diritti, ma il medico non è che ti ha prescritto di fare il film su Silmarillion se non hai i diritti, cioè il fatto di voler fare un film, basandosi sulle storie di Tolkien, senza avere il diritto di raccontare le storie di Tolkien, non giustifica il fatto che tu voglia comunque fare la storia, e vai a creare, a tirar fuori una stronzata, non hai i diritti di raccontare una storia, non la raccontare, non è che ti metti a inventare le cose, e invece no, Amazon non è d'accordo sul riguardo, io spero, spero vivamente, che Peter Jackson non faccia lo stesso errore, ma non credo, perché altrimenti si rovina la reputazione, si rovina la carriera, se si fa una stronzata, quindi. Penso sì che sia molto legato poi ai film che gli hanno dato più lustro, che viene venerato proprio per quella trilogia, quindi penso che sia come il team. Peter Jackson è il Signore degli Anelli, ha fatto un sacco di cose, lo sappiamo, però ha fatto pure horror, lo sa, ma lui lascia con l'horror, ma Peter Jackson è il Signore degli Anelli. E quindi secondo te su cosa lo faranno? Te l'ho detto, la storia è quella lì, la caccia a Gollum, Gandalf e Aragorn, che provano a dare la caccia a Gollum, Aragorn lo riesce ad agguantare, lo interrogano, c'è anche potenziale per tirar fuori una storia un po' creepy, perché le voci che giravano nella terra di mezzo, era che Gollum strappava i bambini alle madri per mangiarseli praticamente, quindi può diventare anche una storietta abbastanza dark, i stessi Gandalf e Aragorn per interrogare Gollum l'hanno un po' torturato, Sauron l'ha torturato, secondo me non lo faranno vedere, che sono i buoni, non hanno il coraggio. No, vabbè, no, aspetta, aspetta, non l'hanno torturato senza la parola, l'hanno trattato un po' male, torturato è un parolone, è Sauron che l'ha torturato, però questo per dire che c'è il potenziale per fare un dark fantasy addirittura, c'è il potenziale. Hanno quelle intenzioni, vogliono un qualcosa di family friendly, sì, probabilmente sì, perché di sicuro questo film sono andate a vedere le famiglie, quindi non mi aspetto di certo squartamenti, gambe, tagli sulle gambe al povero Gollum, no, non mi aspetto tutto ciò. Qualcosa dovranno inventarsela, questo è sicuro, però se la sono inventati anche il Signore degli Anelli qualcosa, Arwen che va a prendere Frodo, lì non è Arwen che va a prendere Frodo, è il nostro personaggio, il Color Finder, che va a prendere Frodo. Hanno tagliato di mezzo Tom Bombadil, che io non so se hai letto il libro, nel libro è un personaggio importante. Ma se facessero un film su Tom Bombadil? se mi mettono Jack Black come attore, sì, vabbè, per me andrebbe bene, andrebbe perfetto. No, la parte scherzi, non lo faranno mai, perché è difficile da rappresentare come personaggio, è molto difficile, perché nei libri è al limite della comicità, quindi no, forse è un film d'animazione, e guarda che in arrivo a fine anno World of the Royal Rim, che è sempre preso dall'universo dolkeniano, essenzialmente riguarda Rohan e le origini di Rohan, praticamente è quello il sunto. Quello è interessante da un certo punto, perché è una storia poco conosciuta, dall'altro si parla di tanto del power, quindi io mi faccio il segno della croce, e prego che non sia effettivamente così. Alcuni hanno detto, e io non riesco a dire che sia impossibile, ma io tremo al fatto che potrebbero sostituire nella caccia di Gollum, Aragorn con nuovi personaggi, così da far affezionare il pubblico. Aragorn dica, no non posso, perché devo fare questa cosa, voi Hobbit andate a cercare... Se lo fanno finisce male, ma non solo da parte mia, conoscendo il fandom tolkeniano finisce male, giustamente, no no, no ma non Arca non lo fanno, non lo fanno, non lo possono fare, si sminchiano tutto se fanno una cosa del genere, non lo fanno. Perché? Visto che devono inventare, allora... Eh ma non a quelli livelli, a quelli livelli, anche perché l'informazione che Aragorn caccia Gollum ce l'hanno loro, quindi perché dovrebbero inventarsi sta cosa? Sì, magari compare per... inizialmente e poi verso la fine del film, e quindi il centro va... no no Arca non lo fanno, ti assicuro che non lo fanno, no è troppo, sarebbe troppo, sarebbe veramente troppo persino per... pure per Amazon sarebbe troppo. No, loro devono inventarsi la modalità, tutto lo svolgimento, il secondo atto si devono inventare a Arca, essenzialmente, lo sviluppo della storia, perché quello sviluppo della storia loro i diritti non ce l'hanno, e in realtà Tolkien ci dice veramente pochissimo, quindi si devono inventare il secondo atto, che probabilmente rappresenterà circa un'ora e un'ora e mezza di film, che sarà un film tra due ore e mezza e tre ore di film, sono sicuro, due ore e mezza e tre ore, quindi almeno un'ora e un'ora e mezza di secondo atto se lo devono inventare. Ma si potrebbe anche sintetizzare, non è che per forza devono fare film da due ore e mezza, si può fare. Peter Jackson lo vedo che il film che o tu lo fa da tre ore o non te lo fa proprio, puoi vedere. Vabbè, e niente, niente, non deve addormentarsi in sala, va bene, PJ. Vabbè, chi non è appassionato, sì, è appassionato come me e io ovviamente analizzerò ogni fotogramma, quindi, però io posso comprendere che c'è l'appassionato e c'è chi come te va a vedersi tutti i film, ma pure io volevo vedere, però l'intento, ovviamente quando andrò a vedere questo film, la mia parte torqueniana prenderà il sopravvento su quello della cinefila, questo credo sia ovvio. Quindi, io ovviamente sarò più interessato e mi baserò per il mio giudizio maggiormente sulla tendibilità agli iscritti di Torquen, ma come ho fatto anche con Amazon, la serie io l'ho valutata da entrambi i punti di vista e l'ho bocciata da entrambi i punti di vista, però prima battuta l'ho valutata da quanto torqueniamo, però la stessa cosa quando arriverà il giorno. Vediamo, dai, vediamo, mancano due anni, vediamo come procedono i lavori, iniziamo a vedere questo. Nel doppiaggio italiano però mi aspetto che si citano i forestali perché se è quello diciamo... Questo è un altro discorso che devono... la traduzione fatica, la traduzione alleata che sai che ci sono due traduzioni sugli anelli, la prima è l'alleata che la amano tutti perché è quella dei film, la seconda è la fatica che è uscito qualche anno fa e la odiano tutti perché ha stravolto tutti i nomi. Ora, capì, la nuova, la vecchia traduzione è anche quello, si vedrà. Adesso è uscito l'audiolibro della Bonpiani ha fatto uscire che non c'era l'audiolibro del signor Anelli, cosa incredibile, assurda. Ha fatto uscire la Bonpiani l'audiolibro del primo libro del signor Anelli di Compagnia dell'Anello non mi ricordo chi lo legge comunque è un bravissimo doppiatore, grande voce hanno utilizzato la traduzione fatica e tutti già che schifo perché? Perché ovviamente la traduzione alleata è stata ritirata, non possono utilizzare la traduzione alleata quindi anche per il film dovranno utilizzare la traduzione fatica. Guardatevelo i forestali vabbè quindi alla fine c'è i forestali in Sicilia dimmi tu ah per me va bene ma ok allora andiamo a parlare del trailer che tutti stanno aspettando altro che Rings of Power voi direte ma di che stai parlando? di Deadpool e Wolverine meglio raga ricchi a tutti i costi e che cos'è? direte voi ma come cos'è? ma vedi che non sapete niente è il sequel di Natale a tutti i costi film del 2022 che ho visto nel salotto di casa di Cine Frank me lo ricordo benissimo quando eravamo ancora in Italia esatto 2022 che periodo che periodo di merda della mia vita no si scherzo no no mi dissocio mi dissocio mi dissocio vai tu Cine Frank insomma dici un po' al primo film che cosa ne pensavi ho forse ne hai parlato sul canale mi ricordo mi pare di sì non mi ricordo no 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 non la fece la recensione vabbè che cazzo devo dire cioè alla fine è un filmetto per i bumeroni il primo era proprio un bumerone di cosa parlava ma lo sai che non mi ricordo proprio perfettamente però è una cosa di famiglia ma allora era così era così c'erano questi due figli che erano presi in giro dai due genitori che dicevano di essere ricchi e quindi facevano questi regali a specie di talvi ai figli dicendo vabbè ma dai ti compro questo ti compro l'altro e si indebitavano essenzialmente per fare bella figura con i figli ma poi non avevano questi soldi e quindi alla fine si tutto finiva era ridicolo si si è un filmetto italiano classico filmetto italiano quello almeno uscita non mi ricordo se è uscito direttamente streaming o uscita no 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 uscisti non capisco questo però aspetta che esca in sala spero di no 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 su netflix il 2 giugno allora lascia far cioè tanto christian de sica stai vicino è prossimo alla pensione cazzo deve fare angela finocchiaro eh grandi atto proprio ma almeno vabbè il top del top almeno il christian mettessa a fare natale su martes queste cose qua come ha fatto qualche anno fa a me non erano divertenti sa erano nella loro trash erano divertenti ti dava modo di fare una bella recensione divertente avevano un senso di esistere no ti facevi la risata ti facevi l'incazzatura l'operculavi con i tuoi amici e finiva e passavi la serata passavi il natale questi filmetti qua cioè ma che sono proprio insapore perché sono sono rivolti ovviamente a un pubblico specifico un pubblico over 40 over 50 magari anche over 60 che ovviamente si seguono i film di christian desica si seguono questo tipo di tematiche questo soft porn da pensionati che io lo definisco no dove si fanno le battute sulle tette sui culi però sai in modo molto garbato perché non sono i cinepanettoni dove lì si danno la pazza gioia invece questi filmetti sono filmetti dove si fanno le battutine un po' così sai per il borghese medio italiano dal 50 sono film di caro tanto specifico ma non abbiamo detto di che parla questo magico film leggo netflix in arrivo il 4 giugno segnatevelo quando una nonna si innamora di un corteduttore sfacciato dalle dubbe intenzioni la sua famiglia è scogita un piano segreto per proteggere la sua vita e la sua eredità è la loro eredità incredibile whistle sailor agghiacciante agghiacciante proprio poi c'è anche quest'attrice che secondo me è la peggiore italiana bella quanto incapace dharma mangia vuz che ragazzi tutti i film che fa è sempre una cagna pazzesca non c'è scampo io mi aspetto già sono pronto io sono pronto per vederlo sto film e niente sul teller del nuovo vuoi dire qualcosa ti ha colpito qualcosa in genere no vabbè è lo stesso discorso del primo film non non mi aspetto niente sono già deluso nel senso io non probabilmente non me lo vedrò ho visto il tele perché mi ha costretto arca quindi lo devo ringraziare sempre per le perle che mi fa scoprire vabbè ma giustamente non può essere un metropolis un trailer metropolis ogni puntata quindi c'è un trailer metropolis tra l'altro ti annuncio non so se hai letto la notizia verrà proiettato verrà distribuito in Italia non mi ricordo da chi ma verrà distribuito in Italia quindi per la tua felicità speriamo per la mia anche se ovviamente se fosse in Italia purtroppo non so come lo vedrò spero di recuperarlo comunque quanto prima perché si annuncia uno dei film più interessanti vabbè tornando al filmetto qui vediamo cioè vediamo tu lo vedi e io mi guardo la recensione tu e mi faccio due risate mettiamola in questa foto va bene va bene ci sta quando esce quando esce il 4 giugno non manca tantissimo mamma mia proprio prossimissimo proprio la voglia grande anche se ve lo dico qua il film che più aspetto fino a questo momento prima di Megalopolis di Francis Ford Coppola è il nuovo film dei me contro te del 30 maggio hype puro hype puro super top io ve lo dico bellissimo detto questo io chiederei qua ringrazio Cinefranc quindi iscrivetevi sia a Valinor che a Cinefranc che al mio canale abbonatevi pure fati by Wajon se no arriva Gollum che vi ruba i vostri tessori mi raccomando quindi ci salutiamo ci becchiamo la prossima settimana e parliamo un po' del nostro rapporto con Furiosa aspettando poi il film della prossima settimana tu cosa andrai a vedere devo vabbè il coso delle scime lei me lo recupererò in streaming l'ho detto ti dico subito allora Cinema Caffè Edinburgh i prossimi film in uscita saranno fammi vedere Wednesday allora qui c'è stanno riproducendo Star Wars episodio 1 tanto per c'è ancora Abigail c'è Civil War c'è Godzilla no al momento non è in programmazione il quanto pare non c'è ah c'è Black to Black Back to Black il film con la cantante Amy Winehouse c'è If quello con Ryan Reynolds quello probabilmente lo andrò a vedere coi bambini e al momento c'è questo non so devo controllare quando esce negli Stati Uniti Furiosa è strano che non esca nella stessa potrebbe uscire dopo di voi possibile quando esce in Italia no Furious esce il 24 ah il 24 vabbè allora la settimana prossima c'è If con Ryan Reynolds si si è Back to Black che io non vedrò perché i bioptic musicali sinceramente me li riguardo poi quando escono in streaming non mi interessa non mi attraggono particolarmente in realtà non mi attraggono manco su If io non sono un gran fan di Ryan Reynolds quindi lo andrò a vedere perché si ho un'occasione per andare con i bambini mi è stato un'altra stronzata quindi allora Furiosa esce in Italia il 23 maggio Stati Uniti 24 quindi è il giorno dopo sì beh a volte succede io sta cosa ancora ancora non l'ho capito a volte succede che arrivano i film da voi un giorno prima ma come si chiama di un partito arrivo due giorni prima non lo so va bene va bene allora un saluto a tutti buon buona colazione perché arriva alle 8 di martedì mattina in Italia e invece a noi buonanotte ciao ragazzi ciao